c'era claudio con franchino e giovanotti mi fatti volevo presentare giovanotti ha sentito il tuo provino gli è piaciuto un casino quindi sei dei nostri in quel momento sono uscito bella raga nuovo appuntamento nuovo passa dal basement bentornati bentornati anche sul canale se ancora non lo avete fatto e vi va io ve lo ricordo sempre iscrivetevi qui sotto da qualche parte vi usciranno i link ma comunque dovete farlo qui sotto dovete anche attivare la campanella perché così siete proprio tranquilli non vi perdete manco una puntata manco una chiacchierata neanche un incontro io sono sempre gialluca gazzoli e da qui stanno passando tanti amici e questo mi fa molto piacere perché sono tutti amici speciali per fortuna insomma vorrei che fosse la grande caratteristica di passa dal basement sono molto contento della chiacchierata e dell'incontro che stiamo per fare oggi perché ci sono tante curiosità che mi vorrevo togliere da tempo ma tutte le volte noi ci incontriamo o velocemente il radio o velocemente a degli eventi o velocemente ma c'è sempre poco tempo per approfondire delle cose che avrei sempre voluto chiedere a daniele bossari ciao 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 gianlu ciao a tutti il boss grazie per l'invito sono felicissimo o complimenti perché basement è veramente una finta allora per un appassionato come te anche di cose che ci sono anche qui dentro per me è un orgoglio gigante ma è bellissimo mi sono perso vedere tutti i dettagli che hai collezionato che hai messo insieme assemblato veramente bello è un po' la tana sì è un po' quella alcuni dicono man cave è un po' bellissimo complimenti quindi grazie davvero no dico questo perché tu sei un grande appassionato in generale di cose cioè nel senso di cose sei la passione anche verso l'avere un proprio spazio dove poterle sfogare certamente la curiosità è ciò che mi contraddistingue per cui la voglia di scoprire e di capire ciò che non conosco cioè tutto alla fine ed è cominciando dalla storia della gente delle persone che incontro io voglio sempre sapere no che cosa fa uno quando lo vedo così la sua storia personale eccetera fino alla ricerca interiore che sviluppo poi nei miei nella mia cripta successivamente esatto perché anche tu è uno spy ha il tuo base sì 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 è più che altro è il luogo dove medito dove leggo libri dove uso i miei cristalli dove utilizzo la realtà virtuale dove mi sfogo faccio tutte quelle cose lì magari ci credo ci credo ci credo tra l'altro insomma per me ormai danni tu rientri ufficialmente negli avengers nel senso che ultimamente comunque nei nei passate insomma lei l'hai detto anche pubblicamente cioè hai passato anche un periodo abbastanza difficile non è il tuo primo periodo difficile quindi di conseguenza per me rientri nella categoria veramente dei dei supereroi che che combattono le forze del male guarda c'è una parola che negli ultimi anni va tanto che è resilienza io l'ho sempre ignorata e adesso conosco perfettamente il risultato cioè il significato e cioè la capacità di rimettersi in piedi e continuare infatti è tra le varie cose di cui vorrei provare a parlare oggi l'altra è un po anche un punto di partenza nel senso che mi è capitato tante volte quando mi chiedono che cosa fai o quali erano i tuoi sogni se fai quello che sognavi eccetera io sempre detto anche in qualche intervista io faccio un lavoro insomma sognavo di fare un lavoro che non esiste più e faccio un lavoro che invece non esisteva prima il lavoro che io ho sempre sognato di fare è quello che in qualche modo in italia è anche un po inventato tu nel senso io sono io sognavo di fare il vj io sono partito quindi proprio che quando ero un ragazzino dicevo io voglio fare il vj ma che figata io voglio fare quella cosa lì ma che bello vedevo te vedevo tutti i tuoi colleghi e dicevo cazzo che bello poi quando è arrivata diciamo la mia ora il mio momento diciamo anche anagrafico è sfumato tutto non è esistita più quella cosa però sono esistono tante altre cose che sono assolutamente tipo quella che stiamo facendo oggi è una roba probabilmente impensabile quando tu hai iniziato a fare il vj quindi stiamo parlando di preistorie ovviamente però alla fine è così più di vent'anni fa perché erano alla fine gli anni 90 c'era questo canale televisivo mtv che andava alla grandissima perché passava la musica perché si rivolgeva a un pubblico di giovanissimi e lì si trovavano tutti contenuti fighi cioè proprio esteticamente era una tv curata faceva tendenza trasmettevamo da londra all'inizio quindi insomma per un ragazzo di vent'anni lavorare lì era davvero il sogno della vita come adesso su youtube o comunque su alcuni sì quello poi aveva veramente una magia poi magari dato che ci seguono ci ascolta secondo me sia tanta gente della mia e della tua età della nostra età che quindi sa di cosa parliamo e altri che magari vedono mtv oggi e dicono ma come io su mtv vedo le serie vedo le serie vedo gente vedo il jersey shore che dice una roba è cambiato completamente pensa che non c'era youtube appunto quindi vuol dire che la musica si l'ascoltava in radio ma o sui cd o sui supporti vinili quello che vuoi però non esisteva on demand quindi tu vedevi un canale per la prima volta dedicato alla musica aspettavi che arrivasse il tuo artista il passaggio della videoclip che ti interessava era un po diverso però è esatto anche io ho proprio il ricordo che io aspettavo il pensa il videoclip di robbie williams di quello in cui lui forse era rock dj che c'era una versione che tu vedevi di giorno che era quella che finiva con lui che si spogliava censurata c'era e poi c'era la versione che tu il giorno dopo andavi a scuola e dicevi ai tuoi amici raga io l'ho vista ieri sera intorno a mezzanotte hanno fatto la versione in cui lui si toglie anche tutta la pelle si strappa e resta ed era una cosa un pochino sì c'erano i primi effetti digitali chemical brothers che utilizzavano magari la musica un po più elettronica per esprimersi anche in video con queste forme di video arte che erano assolutamente all'avanguardia oppure madonna con i suoi video un po trasgressivi dove si spogliava eccetera poteva andare solo la notte pensate sembra veramente incredibile le cose sono cambiate tantissimo però ti capisco quando tu dici di un sogno di una roba a mia volta sognavo di fare quello che faceva lorenzo giovanotti per dire che è il mito assoluto e bene o male vedi che sono entrato radio dj tutta quella dimensione lì anche perché tu hai fatto tu sei stato il primo vj italiano non primo allora il primo in assoluto è stato proprio lorenzo giovanotti mtv america ma lui faceva dei collegamenti delle cose su mtv quindi in assoluto è stato il primo vj per l'italia cioè per ntv europe così invece il nostro fratello è enrico silvestrina lui è stato il primo è stato il primo sì sì assolutamente in inglese tutto quanto poi è arrivata tutta l'ondata di italiani con camilla victoria c'era andrea pezzi c'era io maccarini e tutti tutti gli altri però dicevi che questa cosa ti è successa con la chiamata a londra sì pensa che bello io stavo lavorando in radio e in quel momento vedo passare su mtv una un promo che dice se già sei dj trasformati in vj quindi ho preso la mia videocamera e qui stiamo veramente vintage con la cassettina e mi sono ripreso ciao sono daniele bossari bababa ho fatto due tre video due tre minuti di video l'ho non l'ho spedita l'ho consegnata a mano nell'ufficio di milano e pochi giorni dopo mi hanno chiamato per fare il provino e da lì mi hanno detto sei pronto per trasferirti a londra ora tu pensa la bellezza cioè nel senso tutti gli amici londra è una città che ancora oggi è una capitale no delle tendenze della moda della musica all'epoca mito assoluto e quindi i miei amici magari andavano lì per fare esperienza per imparare la lingua però sempre magari adattando sì magari andando in ristorante la roba eccetera io arrivavo lì mi sentivo puff daddy non so come dire no cioè veramente una figata veramente una figata e non hai avuto paura mai cioè tu ovviamente hai detto sì ci sono faccio partiamo subito ma no è quell'incoscienza che ti accompagna nei grandi rischi quando ti butti e quindi bellissimo tu eri già a radio dj no all'epoca non ancora dj contemporaneamente a mtv mi è arrivata la proposta da parte di linus e quindi sono entrato anche a dj prima ho fatto radio capital che comunque era della stessa famiglia rtl e poi dj con con mtv e tu da subito a quanti anni avevi quando iniziato a fare non dico mtv prima quindi la prima volta al microfono è stata a 14 anni adesso ne ho 48 qualche anno è passato si faceva regia da soli un po come stai facendo tu adesso però con musica robe con pubblicità anche anche quando stavo mtv la facevo questa bellissima radio dj trasmetteva da londra cioè il mio programma london calling era fatto subito dopo la diretta per mtv dovevo correre in questo studio e noi ce la giocavamo lo studio da londra all'epoca sembrava però invece era allestito nell'infermeria di mtv quindi era praticamente un tugurio con un lettino da cui io trasmettevo con un piccolo mixer c'eravamo inventati un regista finto non esisteva ma la gente pensava fosse vero che si chiamava alfred quindi ogni errore di regia per me era colpa di alfred chiaramente regista inglese international chiaro chiaro parlavo con lui in inglese ma soprattutto mi capitava spesso di avere magari delle ragazze che in quel momento stavano male o che ne so avevano le loro cose non lo so quindi erano gli sdraiati sofferenti e spesso mi è capitato di andare in onda con loro così io di fianco a dover farla dire sì questo è questo è però all'epoca non c'erano i social quindi nessuno ha visto nessuno sapeva e questa era la bellezza del cantare con la lingua ok i ragazzi di oggi giovani bene o male hanno subito a che fare con l'inglese lo sanno meglio di dei ragazzi più grandi perché hanno subito accesso a tanti contenuti anche in inglese tu quando sei andato già lì a londra quando iniziato con la radio eri già autodidatta totale il mio inglese l'ho imparato che adesso è maccheronico perché comunque non pratico dai vinili dai dischi i beastie boys che erano il mio gruppo preferito in assoluto quindi stiamo parlando di pop il primo gruppo bianco rispettatissimo anche da tutta la varia la comunità che c'era all'epoca beh studiandomi le loro liriche qualcosa capivo e piano piano masticavo totalmente dai vinili la tv non esisteva la possibilità di impostare i sottotitoli che si può vedere in lingua originale per cui questo era insomma grazie a questo quindi sempre grazie a questo sono arrivato a intervistare poi più grandi da jennifer lopez a tutti quelli che passavano di lì robbie williams eccetera eccetera infatti in quel quanto è durato il periodo londra e poi italia in realtà io sono stato lì pochi anni perché sono stato tipo due anni e mezzo tre poi ho avuto la possibilità di fare un salto e quindi entrare nella tv generalista che aveva comunque dei numeri diversi quindi sto parlando di italia 1 e per me quella era una bellissima occasione quindi ne ho approfittato alla grande per poi di tutte le cose che tu facevi su mtv erano da lì da londra tutte sì anche select tutto sì sì era in diretta da londra e la cosa bella era che appunto avevi la possibilità stando qui in italia di osservare un programma in diretta da londra e scrivere cioè i messaggi non erano come adesso tramite whatsapp coi vocali eccetera ma si mandava il fax sì 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 quella roba lì è mi fa sentire tanto anziano però cosa ti arrivava ti ricordi in quel periodo cosa arrivava quel fax anche magari da gente che marea di cose all'epoca era veramente come dire i beatles negli anni 60 cioè i vj erano delle assolute star tant'è che non potevo tornare qui in italia e stare da solo camminare in città ho provato una volta a farlo mi sono ritrovato con la maglietta completamente strappata la polizia che è dovuta intervenire veramente era così cioè io non me ne rendevo conto perché vivevo la però qui tu eri anche il figo della situazione ma non è vero cioè guarda io non me ne sono mai reso conto ancora adesso quando ci sono le tue foto online quando c'è una roba anche sulla radio c'è sempre a parte che sia un bell'uomo anche adesso però ci sono tante che ancora scrivono che eri la loro crash oggi si dice la loro crash però la loro cotta effettivamente lo sei stato all'epoca avevo questo look con il pizzetto e un piercing in fondo agganciato che era ora magari è già più comune però era una cosa che che non si vedeva e quindi c'erano tutti i cloni che andavano in giro questo me lo ricordo perfettamente ma soprattutto mi ricordo la pina quindi radio dj la pina che all'epoca era uscita con un album perché faceva rap ed era venuta in studio lì a londra e lei mi aveva tagliato in diretta questo pizzetto sì e il piercing cioè la codina del mio pizzo quindi una cosa un po schifosa perché e con il piercing l'abbiamo spedito a un telespettatore quindi qualcuno nel mondo secondo me l'ha conservato secondo me l'hanno conservato beh però sono cose che potevano succedere tipo io grande nostalgia di quegli anni e che non ho mai vissuto da quel punto di vista perché credo che deve essere stata veramente un insieme di partenze di energie di situazioni sì c'era una grandissima creatività ma le cose secondo me adesso sono si sono sviluppate alla grande cioè c'è molta più opportunità attraverso gli strumenti cioè adesso veramente puoi puoi fare una televisione con con relativamente un budget contenuto quindi non c'erano queste possibilità era diverso si era magari più cioè difficilmente raggiungibili adesso si si creano invece collaborazioni cose che sono secondo me straordinariamente interessanti e tra tutti gli artisti che hai incontrato in quel periodo c'è qualcuno che ti ricordi in particolare guarda il primo che mi viene in mente è bono bono box che per me è leggendario ovviamente e me lo ricordo come simpaticissimo quindi con grande disponibilità apertura eccetera rimane nell'olimpo vasco rossi comunque all'epoca come adesso e niente rimane veramente la persona e anche lì con loro non ti sei mai sentito così era tutto appiccicoso ragazzi cosa non facciamo domande non abbiamo risposte mi è venuto sei col dittino fare cosa no forse il saldatore che oggi ha lasciato un po di veri speriamo speriamo se no a proposito di mtv c'era un programma che si chiamava room raiders però era già nella fase diciamo non dico calante però diversa di mtv dove uno entrava nella tua camera con quelle come si chiamano quelle luci con i neon lumi si va bene andava a vedere tutte le cose che illumino illumino esatto quello del lui diciamo la prova era cosa c'è nella tua camera da letto orribile 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 ho visto un servizio delle iene che fa sulle nelle stanze d'albergo esatto ecco apriti il cielo e pensa io ho iniziato a 15 anni facevo i sottotitoli di quei programmi per mtv quindi in qualche modo cioè non lo sapevo quando mentre andavo a scuola per cercare appunto di farmi spazio largo eccetera l'unica cosa che avevo trovato era in questo studio di doppiaggio dove in realtà doppiavano poi facevano inserimento dei sottotitoli dei vari programmi di mtv quindi c'era un traduttore che mi passava i dialoghi e io inserivo questi dialoghi all'interno di un computer che poi li metteva su credo di aver scritto anche delle cagate in alcuni casi perché magari nella velocità eccetera però in qualche modo si collega si collega tutto quindi insomma quegli anni credo che siano stati parecchio movimentati emozionanti energici guarda gianlu era veramente un'altra epoca io credo che dal 2001 cioè con la storia delle torri gemelle sia cambiato tutto quanto nel mondo cioè quindi proprio lì quello è il momento chiave secondo me proprio storicamente prima e dopo ma davvero secondo quello cioè ovviamente lo storico sicuro però ha influito anche su tutto il resto secondo me sì anche perché poi dal 2001 in poi sono cominciati veramente cioè l'utilizzo dei computer dei social dei device eccetera è partito più o meno da lì in realtà un pochino più avanti perché youtube è nato nel 2005 però voglio dire fino a quel momento si viveva in maniera completamente diversa direi totale totale tu come l'hai vissuta tutta la tecnologia tu sei un grande appassionato di tecnologia sì assolutamente sono un grande fan sei sempre sul pezzo anzi di solito sei anche un pezzo avanti rispetto al mainstream ma l'hai stato da sempre così? credo di sì influenzato dai vari film dell'epoca quindi da ritorno al futuro in poi anni 80 eccetera però la passione per i videogame per i computer per la realtà virtuale che era una promessa nei primissimi anni 90 era un sogno sembrava irrealizzabile irraggiungibile all'epoca andavo alle fiere a Londra c'era già la possibilità in alcune sale gioco provare questo strumento questo mezzo che era uno zaino pesantissimo in totale sarà stato una ventina di chili portarseli addosso era davvero difficilissimo e poi con una grafica orrenda ecco questo genere di cose mi ha aperto proprio la testa cioè mi ha fatto immaginare gli scenari futuri e in parte li sto vedendo adesso invece per alcuni aspetti ancora siamo lontani quindi l'esplorazione spaziale il viaggio nel cosmo ce l'hai sempre come sogno quello di andare nello spazio? sì ce l'ho sempre ce l'ho sempre lo coltivo sempre anche se adesso la mia priorità è quella legata al presente cioè quindi al nostro pianeta e a capire come poter fare per salvarlo perché quindi c'è una deriva ambientalista prima di andare a vedere gli altri cerchiamo di capire sì 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 c'è l'idea di poter di dove scappare andare su un altro pianeta mi terrorizza abbastanza ma come funziona se oggi una persona vuole andare nello spazio? lo può fare lo può fare per notando sì ci sono delle agenzie le più famose sono quelle ovviamente di Richard Branson Virgin Galactic che è quella a cui mi ero scritto io infatti quindi è vera quella cosa nel 2001 avevo comprato un biglietto per un'agenzia che si chiamava Space Adventures quindi il biglietto mi è arrivato nel 2002 siamo nel 2022 e ancora io non ci sono riuscito ad andare ma c'è ancora il tuo biglietto come funziona quella roba lì? sì c'è un'assicurazione per cui hai la possibilità di ritirarlo fino a tre mesi prima del lancio però nel frattempo il prezzo è lievitato per cui vent'anni fa l'ho acquistato a una cifra adesso costa 4-5 volte tanto però non è più l'esperienza che sogno perché quello è un volo suborbitale per cui significa pochi minuti in assenza di gravità fai questa parabola scendente rimani in sospensione poi dopo raggiungi 100 km d'altezza la linea in cui inizia lo spazio e poi riscendi mi piacerebbe invece poter vedere che ne so la stazione spaziale come Tom Cruise che so che presto andrà a fare il suo film quello non è male invece chiudo semplicemente dicendoti la motivazione non è così che voglio diventare astronauta così è molto profonda cioè la consapevolezza della nostra posizione nell'universo qui entro proprio nella dinamica spirituale e filosofica il capire cosa può scattare dentro di noi osservando il pianeta dallo spazio perché tutti gli astronauti che ho intervistato mi hanno detto che c'è un cambiamento un click interiore aumenta la tua consapevolezza indubbiamente si parla di un pianeta fragile di un pianeta che non ha confini quindi l'unità del popolo e della stupidità dell'essere umano nel farsi la guerra e nell'ignorare certe problematiche quindi sono tematiche molto... dovremmo mandare su qualcun altro quindi avere un po'... guarda Guidoni che è stato uno degli astronauti italiani il primo nella stazione spaziale ma prima ancora è andato diverse volte sullo space shuttle mi diceva che dovremmo mandare lì grandi i potenti quindi perché lì cambierebbero idea sulla guerra eccetera perché capirebbero che stiamo facendo una immensa cazzata sì forse l'aveva detto non mi ricordo se durante la pandemia dato che c'è qui anche lì avevamo ti ricordi chiacchierato in onda con un astronauta con un astronauta con Nespoli con Nespoli e lui diceva forse mi ricordo se è stato proprio in quella chiacchierata in un'altra che tu dall'alto non vedi confini no vedi tutto tutto insieme la geopolitica non esiste quindi non esiste niente di quello che... però mi affascina mi affascina tanto mi affascina perché scopriamo tutto cioè le nostre origini noi siamo talmente risucchiati dal digitale dalla nostra vita dalle distrazioni non alziamo mai lo sguardo al cielo e quello invece è un aspetto fondamentale non servono strumenti non serve tecnologia basta una serata con il cielo aperto diciamo così col bel tempo per poter ammirare questo spettacolo e provare le vertigini dell'infinito che vuol dire riuscire a capire che siamo su questa gigantesca astronave che galleggia nell'universo e già lì insomma ti vengono le vertigini e se da una parte appunto della tecnologia sei sempre stato diciamo ispirato o come dire appassionato anche su queste cose sei sempre stato interessato sempre ma anche l'aspetto spirituale che poi è diventato una parte importante della tua vita sì guarda che mi piace poter parlare di queste cose mi dai modo di sfogarmi perché nessuno c'è mai voglia di ascoltare invece io credo sia molto interessante per cui no in realtà anche lì ho cominciato chiedendomi quale fosse la mia posizione nell'universo osservando nelle sere d'estate in spiaggia le stelle dicevo cosa sono quei puntini luminosi quindi ho cercato di capire con i testi di astronomia a un certo punto non mi bastava più perché dicevo ok va bene ho capito la composizione chimica ho capito parte della fisica ma qual è il senso e quindi sono poi andato a cercare il senso dell'esistenza nell'esoterismo nella spiritualità e quindi appassionandomi alle filosofie orientali che che spiegavano tutto tutto questo ma se qualcuno adesso magari ascoltandoci ascoltandoti volesse iniziare un percorso di questo genere esplorare spirituale quali sono le prime cose che dovrebbe fare è bellissimo poterne parlare anche qui perché ci sono infinite possibilità cioè alla fine i sentieri sono tantissimi io mi sono trovato a studiare la filosofia orientale però era difficile da capire all'inizio quindi la sconsiglio perché utilizza dei termini per esempio il sascrito che sono incomprensibili termini che non esistono nella nostra lingua allora una diciamo così un passaggio interessantissimo può essere quello della teosofia in Italia quindi ci sono testi in italiano c'è la società teosofica italiana attivissima e quei testi mi hanno permesso di tradurre quello che non capivo il sanscrito cioè perché comunque alla fine dell'ottocento è nata questa società teosofica con madame Blavatsky e lei ha un po' importato questi concetti li ha fatti conoscere all'Europa all'Occidente in generale quindi ho trovato fine ottocento inizio novecento quindi da lì poi c'è tutto uno sviluppo però mi piace perché con un linguaggio accessibile si può cercare di dare un senso più profondo alla nostra esistenza che poi insomma spero credo che sia utile cavolo e tutto questo tuo atteggiamento anche nei confronti della vita lungo la strada ti ha aiutato anche nei momenti di difficoltà? sì mi ha aiutato tantissimo soprattutto nei momenti di difficoltà anche se nel momento più estremo per esempio l'ultimo che mi è capitato accennavi all'inizio a questo periodo di malattia che attualmente diciamo così è lì a Bada quindi è sotto controllo all'inizio ho avuto una specie di rigetto di rifiuto per cui ho detto ma scusami tutto quello che ho imparato cioè io sono qui a ripetermi ogni giorno sono un veicolo di luce o una meditazione eccetera quindi vorrei attirare a me energie belle e mi arriva sta fulminata cosa c'è di sbagliato quindi ti fai tante domande eccetera e volevo bruciare tutti i libri che avevo letto è come quando era venuto qui Don Gino Rigoldi un po' di tempo fa e dici cacchio ma quando tu vedi delle cose così forti che succedono nel mondo delle ingiustizie delle ingiustizie così grandi come fai a continuare a credere in quello che tu racconti e quello in cui credi è più o meno la stessa cosa perché comunque tu ti credi a... Certo, la differenza è che magari in una religione qualsiasi credi a un dogma quindi sei ciecamente accetti quello che ti viene proposto nel mio caso invece da autodidatta è una comparazione di... tra religioni, filosofie eccetera quindi poi il senso della verità lo... Certo Diciamo che sono io a trovarlo ecco a mettere insieme i puntini eccetera però dopo un rigetto iniziale c'è stata invece un'accettazione della mia condizione e a quel punto ho recuperato tutti gli insegnamenti cioè ho capito veramente quali erano le tecniche che per me funzionavano quindi la calma, la respirazione, un esercizio di introspezione tale che mi ha portato ad avere un livello di consapevolezza maggiore rispetto a prima cioè sono profondamente cambiato, credo di essere migliorato, credo cioè di aver compiuto un salto in avanti quindi sono più... cioè ho molto più amore, non so come dire, per tutti, per la vita, per... Beh anche allora per chi non lo sapesse ha avuto un tumore giusto, una forma di tumore alla gola mi ha colpito molto quando l'hai raccontato quando sei andato da Linus e Nicola di Gicam Italia il percorso che hai dovuto fare per le cure e tutto quanto che appunto per chi è abituato anche a parlare, a stare con la gente eccetera eccetera è una roba un po' bella bella tosta, quasi una tortura, no, una tortura forse a tutti gli effetti Sì lo è, lo è, poi nel mio caso fortunatamente le cose erano sotto controllo però il periodo di sofferenza è stato acuto e insomma significa chemioterapia, radioterapia e adesso sono su tutti gli aspetti che fortunatamente adesso mi sono lasciato alle spalle quindi però è il periodo più difficile della mia vita indubbiamente ed è lì che appunto torno agli insegnamenti che ti dicevo ritrovare quella forza, quella calma ecco sono riuscito attraverso queste tecniche e attraverso soprattutto l'amore della famiglia e delle persone che mi erano vicine Cosa facevi? Leggevi? Pensavi? Non riuscivo nemmeno? Non riuscivo nemmeno? Non riuscivo nemmeno? Tu hai fatto in qualche modo a stare con te stesso Sì ma mai così, perché proprio non potevo fare niente quindi ero costretto a stare lì e accettare quella condizione però nel momento in cui l'accetti poi cambia proprio la prospettiva Però tu dici è stata la cosa più dura, più difficile, mi ricordo perché ti avevo scritto io non ti volevo disturbare in quel periodo però ti avevo scritto un messaggio e tu hai detto proprio questa cosa qua, del fatto che è stato il momento più difficile della tua vita nonostante tu ne abbia passato anche un altro parecchio difficile, tu hai scritto anche un libro insomma hai parlato di un tema di cui tanto non si parla tanto, tanto adesso so quando andrei in onda bene questo qualche giorno fa c'è stata la giornata sulla salute mentale quindi c'è stato tutto un tema di approfondimento sull'argomento che è il tema della depressione, il tema dei... è stato più duro questo ovviamente è stato più duro questo? Allora mentre la depressione è sicuramente durata tanti anni per cui è un percorso lento anche lì discendente che poi è la cosa più lontana che uno pensa conoscendoti o almeno io ti ho conosciuto dopo nel periodo però ho avuto sempre un'immagine da dietro dall'altra parte della telecamera e comunque solare, estroversa, attive, cioè l'ultima delle cose che io vado a pensare è che tu possa passare un periodo come quello invece non mi sono fatto mancare nulla però è quello è un tema molto attuale perché mi rendo conto che tantissima gente soffre di questi problemi cioè nel senso tanti ragazzi anche giovani attacchi di panico crisi esistenziali eccetera sarà stato il lockdown sarà stato non so l'ansia di quello nel momento in cui stiamo vivendo adesso però da lì si può guarire e si può guarire anche con un clic un cambiamento istantaneo cioè nel mio caso avevo toccato praticamente il fondo con un episodio scioccante però mi sono risvegliato immediatamente quindi da quel momento in poi è stato tutto bello cioè nel senso una fase di recupero invece la malattia fisica insomma non dipende da te ti devi affidare ad altri e quello che puoi fare tu è cercare di tenere botta dura e quindi mentre ho lasciato che la scienza la medicina curasse il mio corpo io curavo il mio spirito come ti ho detto prima con i miei esercizi con le mie meditazioni e con la famiglia che hai citato che ovviamente è stata la famiglia, l'amore bellissimo, bellissimo, meno male, non è scontato infatti un'altra cosa che ho notato di quest'ultimo tuo percorso è stato proprio il fatto che anche la comunicazione in tanti casi è importante ognuno vive il dolore o le situazioni come meglio crede tu ti sei subito estragnato da tutto ciò che era social o pubblico eccetera ti sei buttato nella tua famiglia, nella fiducia, nella scienza, nella cura eccetera eccetera e poi hai raccontato tutto successivamente a quando poi le cose fortunatamente si stavano mettendo meglio è stata una scelta ponderata per cui hai detto subito io voglio fare così beh, sai, visto che la fase era così delicata io non sapevo il mio destino per cui no, ho dovuto affrontare il pensiero della morte eccetera eccetera non me la sentivo di raccontare niente a nessuno perché non sapevo io stesso non vivevo nell'incertezza e quindi mi sono comunque chiuso e protetto dal mio nucleo familiare che ha rispettato e dagli amici che hanno rispettato questa condizione però mi sono reso conto che in quel periodo che l'intercettare storie altrui anche di colleghi, anche di personaggi famosi come Fedez, Giovanni Allevi eccetera mi dava un po' di conforto perché mi riconoscevo nella loro storia e dicevo cavoli però vedi se ce l'hanno fatta loro quindi aiuta ti aiuta tantissimo allora ho detto una volta finito tutto il mio percorso e una volta passata quella fase lì critica ho detto raccontiamolo agli altri perché so che fa bene anche se una sola persona può trarne beneficio beh allora raccontiamolo secondo me il potere della condivisione fatta nel modo giusto è incredibile e io quando l'ho scoperto diciamo sulla mia cosa legata al cuore alle preparatorie eccetera mi sono accorto che per tanti anni sono rimasto da solo per niente nel senso ho pensato sempre di essere da solo eccetera eccetera quando poi ho scoperto invece che c'è un mondo di persone che vive quella cosa e saperlo in qualche modo ti aiuta ti aiuta diventa inevitabile valeva per la depressione per cui ho avuto davvero tantissimi contatti e ringraziamenti e anche richieste di appunto di confronto con persone che magari si trovavano in situazioni analoghe e la stessa cosa mi è capitata adesso per quest'altra cosa qua quindi alla fine è da forza condividere e aprirsi da forza quindi è un consiglio che mi sento da dare a tutti indipendentemente dal disagio che uno sta vivendo di aprirsi raccontarla il primo passaggio cioè raccontatelo ci sarà qualcuno di cui vi fidate adesso è molto meno tabù quando ad esempio scusami la depressione no quando è capitata a te era forse anche un qualcosa che le persone in generale non ne volevano è un tema di cui non si voleva affrontare oggi tanti ragazzi anche giovani ne parlano prima parlavo appunto di questa giornata che c'è stata quindi aiuta aiuta effettivamente aiuta quando prima ti riferivi all'episodio scioccante quello che racconti anche nel libro quando sei quasi arrivato al pensiero di farla finita no? il pensiero c'era era il gesto che mi ha portato poi a in una notte perché poi comunque non era sempre cioè ero alterato per cui all'epoca bevevo moltissimo insomma una cosa che racconto lì e quindi non ero proprio lucido e mi sono ritrovato in questa su questo cornicione e lì scivolando mi sono aggrappato ho avuto paura perché comunque mi sono reso conto che la morte non era più un'idea ma una possibilità concreta perché stavo per cadere giù nel vuoto e lì mi sono risvegliato immediatamente è quel click di cui parlavi eh sì e quindi la rinascita comunque sei lo stesso attaccato alla vita cioè come ti sei attaccato a quella roba lì sì sì ma sai cambia proprio tutto quello è stato un percorso quell'ultimo qua un altro però alla fine c'è l'attaccamento alla vita non è non è semplicemente egoistico per cui è l'apprezzamento di quello che stai vivendo la fortuna che hai nel poter respirare anche semplicemente quello guardare osservare ascoltare comunicare con gli altri e interrelarti perché poi alla fine questa è la cosa più bella del mondo cioè creare queste interconnessioni a proposito di interconnessioni Filippa quando si è interconnessa nella tua vita la prima volta in che momento quanti anni avevate? allora Filippa era un mio sogno un mio desiderio lei faceva la testimonial per una birra ok posso dire la Peroni all'epoca era lei e quindi il claim era una bionda per la vita ed era usciva dove usciva vestita da sposa e beveva sta birra non so e c'erano i manifesti in giro per Milano negli anni 90 94 96 e io già avevo visto questa figura e guardando per strada ho proprio fisso nella mia testa ho quel momento lì ho detto ah questa sarà la donna della mia vita e qualche anno dopo ho avuto la possibilità di intervistarla per un programma che si chiamava Fuego su Italia 1 andava in onda nel pomeriggio e quindi mi sono buttato ho chiesto agli autori di reintervistarla nuovamente e poi ancora e poi ancora era molto interessante d'altronde era un argomento interessantissimo quindi ho fatto proprio il martello assolutamente e ho insistito e poi alla fine da un'amicizia quindi il primo passo l'hai fatto comunque? il primo passo l'ho fatto io lei proprio mi aveva ignorato completamente sì 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 era fidanzata con un'altra persona cioè proprio non ce n'era non ce n'era però alla fine ho vinto io insomma beh direi che ho realizzato quel sogno che ti ho raccontato pochi istanti fa è vero è vero e qual è stata qual è la cosa più più bella la cosa più facile o comunque più bella o più difficile in un rapporto di coppia quando uno dei due è di una cultura cioè quando si è di due culture diverse perché lei è svedese esatto allora la cosa più bella è questo interscambio per cui io prendo ciò che di bello c'è della cultura svedese e lei prende ciò che di bello c'è della cultura italiana quindi questo c'è un confronto totale loro sono più aperti come mentalità dal punto di vista proprio della mentalità l'ho già spiegato per cui la sessualità eccetera i diritti sono molto sensibili anche meno tabù anche meno tabù sì dall'altra parte però sono molto rigidi invece per cui sono timidi sono chiusi non sono espansivi noi invece abbiamo una solarità che è ammirata e invidiata in tutto il mondo questo lo capisco molto bene cioè il nostro carattere così affabile piace tanto piace tanto quindi si crea un bel mix e io ti direi che questa è la cosa bella difficile guarda la lingua fortunatamente lei parla italiano per cui non c'è stato nessun problema il problema è mio perché invece sono pigrissimo lo svedese è ostico e quindi non ho mai non ho mai voluto imparare troppo però dallo scambio interculturale si può solo crescere cioè possono solo venire cose fuori cose belle questo credo che sia fondamentale beh alla fine vi arricchite la vicenda è infatti nostra figlia infatti stavo arrivando lì perché secondo me è un bel mix tra le due culture per cui ha preso un po' dalla mamma cioè quindi dalle sue radici e un po' dalle mie e quindi questo insieme qua lo vedo più lei aiuta e tu ti ricordi quando sei andato là per la prima volta non so lei ti ha presentato alla sua famiglia certo come ricordo ma no è stato bello non era non ero per niente imbarazzato era tutto naturale bello anzi no no accoglienti belli la cucina è un po' strana perché comunque in Svezia ci sono delle tradizioni per esempio una volta mi hanno dato da mangiare che detto così può anche urtare la sensibilità di qualcuno ma stiamo parlando di un piatto tipico locale eccetera tipo il cuore di Renna una roba proprio da vichinghi proprio così però quella è stata una prova iniziatica che anche lì ho dovuto passare per farmi accettare in famiglia Daniele questo è il tuo cuore di Renna assaggialo facci sapere com'è sono delle culture differenti però è la figata credo che sia proprio tu non hai mai pensato di dire basta Filippa mi sono rotto le palle dell'Italia trasferiamoci lì viviamo lì allora fino oggi no perché non mi piace molto l'idea di un clima così rigido perché stiamo parlando di un paese in cui ci sono sei mesi di luce sei mesi di buio è l'idea di vivere sei mesi con due ore di luce e poi dopo c'è sempre quell'oscurità perenne no non mi piace il freddo eccetera d'altra parte però la natura la bellezza mi invitano a esplorare meglio quella nazione quindi non è escluso che in futuro si possa anche andare lì perché no non escludo niente è sempre affascinante come posto come immagine poi quei sei mesi di buio effettivamente devono essere un po' sì sì dall'altra parte c'hai sei mesi di luce che quindi vuol dire sempre 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 è bello sballato poi a un certo punto però bello non sono mai stato deve essere davvero affascinante e invece poi da qualche anno sei ritornato a radio dj che è una radio che per te ha significato tanto credo anche all'inizio tu lo sai bene perché anche per te è sempre stato un per me io sognavo non di fare la radio ma di fare proprio radio dj perché l'ho sempre vissuta come una cosa a parte diciamo sono un ascoltatore proprio della primissima epoca 1982 la radio nasce eccetera cecchetto gerry scotti così e avevo il mito di tutti questi ragazzi che andavano lì a realizzare i propri sogni e quindi l'ho sempre ascoltata e per me esisteva solo radio dj cioè andavo addirittura con la borsa dei vinili dei dischi fingendomi un dj e camminavo sotto la radio lì in via massena avanti indietro facendomi vedere semplicemente un coglione ora io dico questa cosa facevo la stessa cosa facevo finta di parcheggiare sempre lì vicino e anche se dovevo andare dall'altra parte per poter passare sotto e farmi vedere lì sotto anche solo passeggiare c'era la gente scopriamo una cosa nuova su di te però perché poi c'era sempre il gruppetto di persone che aspettava qualcuno Albertino, Giovanotti, Fiorello poi in quegli anni c'è lì figura sì 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 quindi finché poi ho avuto la possibilità di incontrare Claudio Cecchetto in una nel privé di una discoteca a Milano e all'epoca faceva queste serate anni 70 80 e quindi sono andato lì e ho detto questa è l'occasione della mia vita quindi sono andato da Claudio e ho detto Claudio io sogno di lavorare lì a radio dj e lui mi ha detto e chiamami domani ho detto fantastico ero veramente esaltatissimo poi sono uscito e ho detto ma aspetta dove lo chiamo? perché non c'era la possibilità non c'erano nemmeno i social quindi non c'erano i direct quindi ho chiamato tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni in radio c'era la sua segretaria che attualmente è la nostra che è Graziella e mi diceva sempre no Claudio è in riunione Claudio non c'è non è ancora arrivato non può tutti i giorni tutti i giorni per due settimane finché un giorno mi è arrivata una chiamata da Pierpaolo Peroni che mi ha detto viene a fare il provino sono andato e quindi è andata bene sono contento ecco scusa questa era Radio Capital ma era la stessa famiglia Cecchetto poi da lì c'è stato il passaggio con Linus e Nicola Savino che roba quando una volta fatto il provino sono andato in questa stanza perché c'era Claudio che mi aveva chiamato all'epoca aveva quest'ufficio delle pareti con un gas polarizzato cioè avevi un telecomandino e poteva scegliere se lasciarlo trasparente oppure schiacciando un tastino diventava una nebbia cioè si formava un muro di nebbia quindi nessuno poteva vederti al di là quando metteva il muro di nebbia era perché doveva cazziare qualcuno allora mi arriva la chiamata da Graziella Claudio ti vuole nel suo ufficio vado e vedo il muro di nebbia nooo cosa ho fatto? apro e invece c'era c'era Claudio con Franchino e Giovanotti mi fa ti volevo presentare Giovanotti ha sentito il tuo provino gli è piaciuto un casino quindi sei dei nostri in quel momento sono uscito capito? è stato veramente glorioso che figa poi ho visto che adesso sei andato al concerto di Giova a Giova Beach Party con Lorenzo che ti ha salutato io ho un problema quando lo incontro non riesco a parlare è l'unica persona che mi paralizza eh sì perché è il mio idolo assoluto mi è rimasto ancora questo timore però è bello questa cosa non lo so mi sento anche lì stupido però cioè comunque sai ho una certa età non è più come quando avevo 14 anni però per me l'effetto è quello mi paralizzo solo rimango lì fermo e lui era lì presente quando ti hanno detto che eri entrato in radio è tra le persone che ha espresso il suo giudizio favorevole è il top cioè più di così è fighissimo sì 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 che storia lo posso raccontare beh a proposito in questo fantastico mondo dello spettacolo hai fatto amici veri cioè hai amici veri amicizie tra gente del settore quali sono i tuoi rapporti la mia sensazione è che ti vogliono bene tutti un po' questa ti ringrazio la sensazione collettiva è un po' è un po' questa però ci sarà qualcuno poi lo sai meglio di me un po' come funziona sto mondo ci sarà qualcuno che con cui hai legato di più e qualcuno magari meno sì tante persone diciamo che ho legato con tantissime persone fortunatamente poi però amicizia vera cioè quindi significa l'amico quello proprio più intimo in realtà poca roba ma non è che me ne lamento di questa cosa qui è naturale così si fa magari si fa fatica non so come dire a coltivare dei rapporti sì 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 ma non è un problema no fa parte del gioco però dato che hai conosciuto intervistato un sacco di artisti musica con qualche musicista artista in particolare hai dei rapporti sì ci sono stati dei personaggi con cui ho avuto cioè tipo ad esempio uno è già Luca Grignani che è una persona a cui voglio molto bene che rock and roll vero cioè mi viene in mente lui perché in quel periodo mi ricordo che se mancevano però sì ma non in maniera approfondita chiaro ecco un'altra cosa che non abbiamo che comunque è una carriera è un percorso fatto di tanti anni fatto di tante avventure fatto di momenti up momenti down che sono ovviamente cioè tutte le carriere le più belle hanno questa cioè non conosco una carriera solo di up bella di quelli che comunque hanno lasciato hanno lasciato un segno se non ricordo male comunque anche il momento della depressione quello grigio arrivava dopo un momento di down anche professionale no? era successo forse io mi ricordo di una recensione che ti aveva particolarmente toccato sì che sembra una cosa stupida detta così però alla fine la critica mi ha sempre ferito e avevo ero talmente puro nella mia essenza nel mio no mi ci sono messo perché su alcune cose mi sento un po' allineato a te a livello anche di sensibilità rispetto alle cose no? quindi io nella mia testa a me vogliono cioè io vorrei che tutti mi volessero bene che tutti vorrei stare simpatico a tutti e anche se su cento ce n'è uno che magari è non la vivo comunque bene ancora non sono riuscito ti capisco col mondo dei social questa cosa ancora viene accentuata perché lì era una recensione oggi è uno apre può leggere qualsiasi cosa quindi in quel momento quella roba ti aveva scaturito quello è stato forse il momento un po' più di down del percorso sì fondamentalmente lo spiego in due parole velocissimamente e ripeto stiamo parlando in un periodo prima dei social e c'erano dei critici che avevano il potere anche di influenzare la tua carriera professionale quindi con un giudizio negativo potevano farti a pezzi e nello specifico era il più grande critico di televisione che era Aldo Grasso e quindi mi aveva abbastanza massacrato e io ho sofferto moltissimo di quella cosa però quella è stata la crepa iniziale dopo si è sviluppato tutto quanto sì non era solo quello evidentemente avevo già delle debolezze però a livello di sensibilità è quello cacchio non fa mai piacere no non fa piacere ma tra l'altro apro chiudo parentesi quella roba lì secondo te è ancora un peso oggi perché questi critici a parte lui che c'è ancora così come ce ne sono tanti altri ma hanno ancora quell'influenza in un mondo dove chiunque può esprimere non così tanto loro sicuramente hanno delle competenze delle cose gli altri no è cambiato è cambiato è cambiato adesso è proprio il pubblico che decide ormai osserviamo guardiamo se guardiamo qualcosa in televisione lo facciamo sempre con lo smartphone con i social con il twitter e vediamo in tempo reale qual è il gradimento quindi le cose sono un po' cambiate in questo percorso a un certo punto è fatto il grande fratello che è stato un momento comunque cioè io tipo dico cazzo grande Dani sei l'unico nel mio parere soggettivo eccetera che è uscito bene da quella cosa nel senso che tutti gli altri per quanto mi riguarda per quello che è un po' il mio parere il mio modo di osservare le cose non ne escono bene cioè è un posto ed è anche un posto dove tu dici chi magari ti conosce cazzo Dani ma cosa ci fai all'interno del grande fratello e invece è stata la tua anche svolta da un certo punto di vista è stata un'esperienza bellissima il grande fratello era la cosa diametralmente opposta alla mia visione della vita cioè era proprio la cosa più lontana in assoluto cioè mai avrei pensato di fare il grande fratello vip figura cioè 24 ore su 24 con osservati dalle telecamere anche in bagno ma anche con persone con tutto rispetto per tutti sconosciute sconosciute a me sì ma anche con cui fuori probabilmente non avresti avuto grandi momenti di condivisione perché erano persone completamente diverse la difficoltà di conciliare proprio i momenti le esigenze degli altri anche vedere i difetti le cose che ti danno fastidio quindi l'accettazione eccetera è stata un'esperienza tosta però mi è servita tantissimo perché mi ha messo a nudo quindi a un certo punto mi sono messo in gioco totalmente e sembra banale a dirsi ma semplicemente essendo se stessi cioè lì no tiri fuori la persona che sei perché è un posto dove poi nessuno è se stesso evidentemente o comunque lì dici il grande fratello no hai probabilmente un periodo in cui riesci a controllarti perché ovviamente sei lì e sei in televisione quindi senti la presenza delle telecamere ma se passi per esempio due settimane io dico due settimane ma secondo me anche meno non ci pensi proprio più cioè sei te stesso in maniera autentica e quindi lì viene fuori la persona che poi sei arrivato cioè la gente ti ha proprio voluto bene lì sia da quando eri dentro guarda sì ho avuto un'accoglienza incredibile commovente direi commovente ma sono stato molto 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 bene davvero mi hanno mi ha aiutato molto tu hai accettato subito di farla o ce l'hai pensato il grande fratello no 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 ho accettato subito c'è stata l'insistenza da parte di Graziella per esempio delle persone di Franchino così mi hanno portato a ragionare ma io non volevo farlo finché poi ho detto vabbè Filippa preparati mia moglie preparati a raccogliere i cocci i pezzetti perché io dopo tra tre giorni ritorno sarò devastato da sta roba qui ero ancora molto fragile invece sono arrivato alla fine insomma è andata bene hai visto cos'è in questi giorni cosa è successo al grande fratello con Marco Bellavia no l'ho guardato che idea ti sei fatto perché anche lì c'era una persona molto fragile all'interno della della casa che invece di essere stata questo è quello più o meno che ho visto che invece che essere stata supportata o comunque è successo un po' un mezzo casino è stato guarda io non conosco Marco Bellavia di persona però conosco la vicenda come l'abbiamo vista tutti quanti ho letta insomma ho visto quella puntata e ho letto molto quello che ti posso dire è che viene fuori il vero carattere delle persone quindi sì non è basta lo spettacolo penoso che abbiamo visto insomma è quello dice già tutto di certa gente lui mi ha fatto molta tenerezza perché aveva bisogno di aiuto e nessuno gli ha dato l'aiuto si è aperto nella sua fragilità e quindi vedere che poi sei massacrato anche dagli altri e in qualche modo insomma però io sono convinto che molti dicono ma quando succedono queste cose quello è lo specchio della nostra società io non credo sia lo specchio della nostra società davvero credo che sia siamo molto meglio di così sì anch'io ho fiducia nell'umanità totale perché poi alla fine queste persone fanno più rumore sono al centro della polemica e quindi si parla di quanto accaduto però poi c'è tutto il resto della gente che magari non è proprio così e io sono come te sono assolutamente fiducioso come sono fiducioso nelle nuovissime generazioni perché vedo che sono svegli insomma qui abbiamo dei rappresentanti molto molto attenti anche ai temi di cui parlavi prima l'ambiente su ma meno male ma meno male questa consapevolezza dai ti chiedo un consiglio pratico allora la meditazione no no a parte quello se lo chiederò perché soprattutto sul fatto femminile che deve essere ancora più particolare la gelosia diciamo così e no a me cioè io ho due anni che rimando ma vorrei iniziare a meditare perché le persone che mi raccontano la loro esperienza ne giovano davvero tanto se vuoi facciamo adesso partiamo subito come si fa si può allora a parte il fatto che anche qui ci sono tantissime tecniche riuscire a non pensare a niente cioè a riuscire a estragnarsi così tanto no non è assurdo perché devi comunque con l'esercizio capire come calmare certi pensieri cioè abbiamo non siamo abituati e quindi il fatto di vivere in questa realtà frenetica piena di distrazioni di notifiche che ti arrivano ti porta ad avere la mente sempre occupata no nei confronti di qualcosa invece ritagliandosi anche semplicemente 5 minuti perché si parte con un minutaggio veramente limitato che dai cioè 5 minuti ce li abbiamo la mattina prima di colazione dopo colazione prima della doccia dopo la doccia insomma un momento per noi dove semplicemente cominci a respirare e già cambia cioè rallenti cambia proprio il battito cardiaco la frequenza emessa dal nostro cervello si modifica e a quel punto calmandoti lasci che si depositino anche tutti questi pensieri frenetici che ti arrivano e lì emerge una vocina interiore ed è quella lì la cosa importante cioè è lì che hai l'intuizione ti apri a livelli più sottili di consapevolezza cioè inizi a esplorare quell'interiorità ti rendi conto che c'è proprio un universo e all'inizio bisogna passare un po' di settimane da spettatori cioè semplicemente stai lì e osservi osservi perché ti è venuto in mente questo aspetta mi sono distratto ok oppure ti ci sono tante tecniche la più semplice è fissare un oggetto che può essere una fiamma di una candela un oggetto davanti a te e cominciare ripeto a prima calmare questi pensieri e poi concentrarti solo sul respiro e facendo questo uno due tre quattro volte cinque volte ti renderai conto che la mente dopo qualche secondo va via è già questo è già questa è una presa di consapevolezza quindi va via e tu la riporti sulla candela o sulla tazza quello che è poi va via la riporti lì va via ma senza forzature osservi dopodiché questo spazio comincia a ampliarsi lo spazio di astrazione diciamo così no e ne senti tutti i benefici ma i benefici in realtà li provi istantaneamente perché la respirazione è questo la mindfulness è il livello secondo me più facile per riuscire ad approcciare queste tecniche in modo occidentale ecco ci proverò ci proverò boss guarda veramente ti dà sicurezza perché io invece sento che c'è un casino in testa un continuo pum 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 e anche solo quando mi metto un secondo fermo non capisco se è perché non riesco a stare da solo con i miei pensieri ma non riesco a stare fermo perché è una condizione umana cioè ma nel senso non riesci fisicamente fisicamente ma anche mentalmente mentre sono anche in scooter continuo pum 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 mi devo addirittura fermare perché mi è venuta in mente una cosa la devo fare subito però è un problema poi collasso a un certo punto lo capisco infatti si può bilanciare così scusami tu sei un atleta quindi lo sai molto bene ci provo sviluppi i tuoi muscoli puoi anche sviluppare questa capacità un'altra cosa che in realtà mi ha colpito conoscendoti è che io pensavo una cosa invece un'altra il periodo di mistero io ero convinto ci ho detto va vedi Dani si è appassionato a tutte queste cose dopo che ha fatto mistero in realtà mistero nasce perché è tutto un mondo che a te è sempre appassionato sì è proprio così cioè la ricerca spirituale è tutto quello che ne deriva quindi anche la fenomenologia paranormale eccetera mi è sempre interessata quindi sono arrivato a fare l'inviato condurre mistero con una preparazione di un certo tipo quindi ci si riuniva tra gli autori e quindi anche io partecipavo a questi incontri per decidere poi le tematiche ed è stato un periodo fantastico per me perché mi sembra otto edizioni così tanto io ho lavorato in otto edizioni e mi ha dato quel programma la chiave per accedere a luoghi che altrimenti non avresti potuto anche perché tu andavi fisicamente in quasi tutti i posti di cui parlavate la bellezza è quella non solo sul territorio italiano ma in tutto il mondo quindi ho viaggiato ho conosciuto gente ripeto ho visitato ho toccato con mano luoghi di nicchia luoghi di culto luoghi meravigliosi evocativi bellissimi qual è la cosa più clamorosa che è? beh allora clamorosa diverse cose mi vengono tante immagini adesso una sono le luci a Hessdalen cioè in Norvegia da una ventina d'anni a questa parte c'è questo fenomeno per cui compaiono delle luci nel cielo le famose ball of lights c'è una parte dedicata alla ricerca scientifica coordinata proprio dall'Italia che sta cercando di capire se si tratta di fonti di energia anche in qualche modo recuperabili quindi fenomeni naturali oppure qualche cosa legato a intelligenze entità che noi non conosciamo effettivamente anche noi abbiamo documentato questo fenomeno qua e ti garantisco che vedere queste sfere di luce che si muovono è impressionante anche perché a telecamere spente rivolgendomi poi a questi ricercatori scientifici certo loro mi dicevano che sentivano un'intelligenza in questa entità cioè si muovevano in un modo non randomico non casuale e quindi questo già apre molte molte prospettive interessanti un altro aspetto invece è quello legato ai fantasmi quindi a queste cose la suggestione lì gioca un ruolo importante però tra tutti i castelli infestati tra le varie sedute spiritiche eccetera qualche volta mi è capitato di avere anche paura fino a provare incubi o a non riuscire a dormire cioè per tanti anni ho dormito con la luce accesa o comunque non andavo a letto prima dell'alba perché avevo dei pensieri perché alla fine sono andato a investigare realmente in queste dimensioni una volta per esempio posso raccontare certo eravamo a Corinaldo in provincia di Ancona era inverno con questa neve incredibile siamo andati a fare questo servizio perché ci hanno chiamato per scavare sotto l'altare maggiore della Basilica di San Francesco una chiesa assolutamente consacrata perché pensavano di trovare delle cripte delle tombe dei monaci antichi medievali quindi siamo andati lì con l'assessorato tutto quanto a scavare proprio quindi c'è la scena rock and roll di me con il martello pneumatico che buco in chiesa che buco il pavimento effettivamente abbiamo trovato questa cosa interessante siamo scesi e sotto l'altare abbiamo visto questa piccola barra bianca che non doveva esserci perché era la barra di un bambino barra bambina non lo sapevamo e diciamo cosa ci fa qui allora abbiamo immediatamente chiamato i carabinieri da lì è nata un'indagine è stata avviata questa indagine di sei mesi per cercare di risalire all'identità di questa bambina era una bambina alla fine l'abbiamo l'hanno poi seppellita in un cimiterio e quindi l'hanno fatta riposare ma in tutto questo cos'è successo che il giorno dopo questa scoperta io appunto mi sono confrontato il regista non riusciva a dormire eccetera così mi chiama il custode della chiesa mi fa Daniele vieni qua vieni qua io questa mattina sono stato il primo ieri l'ultimo ad andare via a chiudere il primo ad entrare e ho trovato tutte le panche di velte dopo che avevamo fatto questo scavo questo tirato fuori questa bara e tutte le panche di velte e quindi o sono entrati i ladri o è successo qualcosa ti garantisco che veramente faceva molta paura molta impressione entrare e vedere tutto quanto ribaltato che forza abbiamo risvegliato lì insomma inquietato purca miseria ma ci credo che hai fatto fatica una volta sepolto poi dopo è finito tutto quanto perché avevamo una serie di sei mesi dopo poi basta non ha più perseguitato gli incubi del regista ad esempio eccetera questa cosa qua questo per farti capire le dimensioni di mistero quindi avrei da raccontarti giallo sul paranormale ci credo tu credi nell'intelligenza quindi insomma nella vita negli altri pianeti sì assolutamente io credo che l'uomo non possa avere l'arroganza di pensare di essere all'apice del ciclo evolutivo cioè noi siamo arrivati qui a questo livello ma oltre a noi ci sono senz'altro altre entità superiori basti pensare che noi siamo nati da un sistema solare cioè le stelle per esempio l'esoterismo te lo insegna sono delle entità non sono solo delle palle di gas ma è qualcosa che non riusciamo ancora a comprendere abbiamo già finito ho fatto un'ora 56 minuti te lo giuro boss grazie davvero sei sempre un figo e grazie posso abbracciarvi eh sì perché dai grazie bai grazie a tutti grazie a tutti